Una situazione dada in un contesto pop. A come Akira Kurosawa, C come Charlie Chaplin, I come Ingmar Beckman, P come Pietro Paolo Pasolini, capito? ACP, film con alto contenuto di impegno politico. Quel che conta è il tempo interiore, è un film sull'interiorità. Ah, è un film sull'interiore? Perché la girava un trippaio. Perché all'Universale il vero spettacolo non era il film, ma il pubblico. La burra asciugagli! Ecco, questo non solo era all'Universale, luogo alto, fantasmagorio se si vuole. Ma vaffanculo! Allora, le donne, tu le devi pigliare così e dici le cose in faccia, con nettezza. Senti, ma il fidanzato ce l'hai? Tommy, il fidanzato è un concetto ramontato. È un po' come il gelato al pistacchio. Tommy! Aspenno, Tommy! E questo film di questa sera ci dimostra anche che Gesù era un grandissimo al tante d'occhi. Perché bisogna farsi sentire. E non può finire così, no? Ma bisogna occupare le sale, le piazze. Come a dire, voi ci vedete il cinema. E noi il cinema lo facciamo vivere ovunque. Un biglietto.